Il risparmio delle famiglie per finanziare, attraverso la cassa depositi e prestiti, le piccole e medie imprese italiane, le uniche che potrebbero risollevare il paese dalla crisi. Se ogni Stato deve puntare sulle proprie peculiarità per invertire la rotta e uscire dalla recessione, la politica economica italiana dovrà avvertere su famiglie e piccola imprenditoria. L'idea è di Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR, la Banca Vaticana, intervenuto a Bari nel corso di un incontro pubblico sul tema la nuova crisi e il bene comune. Oggi il risparmio non è difeso, oggi il risparmio è investito come è possibile farlo, sia in titoli azionari che obbligazionari. Se il nostro risparmio, una parte di questo risparmio, non quello che è investito negli immobili, ma quello che è investito nella speranza di avere dei capital gain, nella speranza di avere degli utili o dei dividendi, venisse convogliato nel nostro sistema economico, potrebbe realizzarsi questo miracolo. L'organo intermedio che interviene, raccoglie il risparmio, lo garantisce, dà una redditività piccola, molto bassa, che copre sia no l'inflazione, ma che fa fare un investimento a medio e lungo termine sull'economia stessa, che è quella che creerà la ricchezza per cui i risparmiatori godranno a medio e lungo termine, ma senza la quale i loro risparmi andranno in fumo, perché o vanno in paesi lontani dove si crea la ricchezza, si crea posti di lavoro, oppure loro stessi non sapranno che cosa farsene. Una strada alternativa, tra le tante proposte nell'incontro organizzato dal Circolo Nuova Italia di Filippo Melchiorre e dall'Associazione Nel Portico di Salomone nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, al quale hanno partecipato il deputato del PDL, Alfredo Mantovano, e il Presidente della Commissione Bilancio del Senato, Antonio Azzollini. C'è forse ancora un'altra necessità, quello di creare una vera e propria nuova etica pubblica e nell'economia che faccia risentire tutti i partecipi di uno sforzo di progresso, di rinnovamento, di ripresa dell'economia e che naturalmente si può soltanto verificare con un vero e proprio scatto nell'etica pubblica.